Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph Gavere. E qui è Frenchie Dreams. Benvenuti su Pokemon Let's Go Eevee e Pikachu. Oggi insieme a Francesca andremo a catturare Mewtwo. Ho già modificato quelle che sono un po' le nature dei Pokemon, vai raggiungimi. Andremo alla Grotta Celeste. Questo non è che è un videoguida, perché ragazzi catturare Mewtwo, tra virgolette, è abbastanza semplice. E tu corri! Lasciate un like adesso, mi raccomando, fateci vedere che volete altri video su questo gioco. E direi subito di utilizzare quello che in passato era Surf. Qua c'è scivolacqua. E io cosa faccio? Non ho la minima idea di quello che farei tu. Io volo. Tu sparisci in maniera totale, quindi ragazzi il nostro Mewtwo avrà una natura modesta, che dovrebbe essere la natura più adatta per un Pokemon di questo tipo. Quindi avrà l'attacco svantaggiato, ma l'attacco speciale potenziato. Vediamo un po' cos'è che mi dice lui. Puoi entrare in questa grotta se lo desideri, ma prima se vuoi allenarti, un po' con un coach, sono a tua disposizione. No ragazzi, noi andiamo direttamente da Mewtwo. Grotta Celeste. Ragazzi, all'interno della Grotta Celeste ci sono un botto di oggetti e poi un botto di Pokemon potenti. Noi ora ci dirigeremo direttamente da Mewtwo. Non ricordo al 100% la strada, ma in ogni caso ci arriveremo facilmente. Le prendiamo poi successivamente. Dai, questa la recupero visto che è qua. Però il nostro obiettivo ovviamente è Mewtwo. Credo che ormai ci siamo, eh Francesca, sei carica? Sono carichissima. Non ti vedo... ti sento un po' raffreddata, quindi non... Cioè va di gola. No, non ti avvicina. Allora, a parte gli scherzi ragazzi, credo che siamo ormai vicinissimi a Mewtwo. E dovremmo esserci qua. Eccolo, io dove sono? Aspettami. Compari. Ed eccolo, guarda che figo! Allora, a questo punto andiamo a salvare, come sempre. Ormai lo faccio da quando ero piccolo. Andiamo a vedere cos'è che vuole Pikachu. Sembra essere spaventato davanti a Mewtwo. Percepisce una tensione nell'aria e non riesce... E facciamogli una coccola, magari... No, dai, sorride di già, niente coccole. Adesso si fa sul serio. Io, ragazzi, partirò con un Pokémon specifico e vi sto parlando di Blastoise. Adesso capirete il perché. Sei pronta? Prontissima! Godiamoci la scena che è incredibile. Lo sapevo, perché si vedeva un po' nel trailer e guarda che figata. Mamma mia, bellissima. Davvero bellissima. Come al solito, ragazzi, il nemico va prima sconfitto e poi solo dopo catturato, eh? Quindi, eccoci qua. Ah, ce li fa lanciare entrambi. Perché io sono Pikachu? Eh, sì, in pratica tu controlli l'altro. Quindi sai che ti dico? Io faccio la mia mega evoluzione e poi nero pulsa. Così sarà super efficace. Eh, io? Puoi fare, non so, fulmine. Ok. Surface Flash, lì, quello che c'è. Ok. Vai, la pietra chiave va in azione. Però questa cosa prima non c'era. Assolutamente no. Assolutamente no. È stato introdotto negli ultimi anni. E fa amnesia. Sai che cosa fa con amnesia? Ci fa dimenticare qualcosa. No. Aumenta la difesa speciale. Ragazzi, Francesca ha giocato davvero poco a Pokémon, eh? Sì, mio cugino mi metteva a sconfiggere i Pokémon nell'erba, quindi non è che... Poca roba. Ah, sai che è tosto. Sai che mi aspettavo di fargli molti più danni. Allora, vado di nuovo con Nero Pulsar. E io faccio Bricciano. Bricciano, Bricciano, Bricciano perché è una mossa non molto efficace contro di lui. E vabbè, non fa niente. Mamma mia, fortissimo, ragazzi. E fa niente, vedi? Eh, ma gli ho dato uno schiaffetto. Ma dobbiamo buttarlo giù subito, quanto prima. Perché abbiamo quattro minuti ora a disposizione. Però che cosa carina, guarda. Colpisce solo te. Colpisce solo me, oh, ce la conto. Allora, quindi, super... Super Splash. Vai, prova così. Tanto le altre mosse fa ripresa. Malissimo, si recupera l'energia con questa. Dobbiamo fargli molti danni. Proviamoci. Si è ripreso un botto. Con Surfersplash, non so, forse colpisci pure me? No. No. Ah, l'abbiamo pure paralizzato. Ottimo così. Ancora con Nero Pulsar. Dobbiamo insistere. Il problema è che lui è di livello alto, perciò riesce a resistere. Vado di nuovo. Oh, questo Pikachu non ha già secca niente. No, se non fai così, non attaccare. E metti l'iperpozione. Fai USA e la metti a Blastoise. Così almeno... Questo è il gioco di squadra, vedete? Questo esatto, è il gioco di squadra. Chiaramente, ragazzi, fare tutto ciò in questo modo semplifica un botto. Non solo la sconfitta del nemico, ma poi anche la cattura direttamente di Mewtwo. Quindi, se avete possibilità, giocate con un amico. Vi divertite di più e catturate più facilmente il Pokémon. Non è il nostro caso, perché si ricarica ogni volta. È paralizzato. Vediamo che succede. Sta mostra ti piace un botto? Perché Mewtwo c'è sempre stato il mio Pokémon preferito. Tentenna! Quindi non può attaccare. Benissimo! Brutto colpo! Allora, Francesca, sei pronta? Sono pronta. Allora, dobbiamo coordinarci. Io e Francesca abbiamo già provato un po' a fare qualcosa. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Premi B. Proviamo prima a fare un'altra cosa. Vado nella borsa e cambio la mia Poké Ball con una Ultra Ball. Anch'io! 3, 2, 1 e aspetta. Vai, vai, vai ora! Eccellente! Ragazzi, tiro eccellente. Non morire, Francesca. Speriamo di catturarlo così mi dà pure più punti esperienza. Non ci credo, è uscito! Mi ha fregato. Vai adesso! Eccellente! Oh, Francesca, questo è nostro adesso. Speriamo. Dai, doppia cattura. Dovrebbe andare a segno, no? Oh! Catturato! Hai catturato Mewtwo. Ha fatto anche il suo suono caratteristico. 5236 di esperienza, ottimo. Perché c'era anche il doppio lancio. Pikachu sale di livello, va al 76. Davvero non male, sono soddisfattissimo. Ed ecco qua il Pokédex. Vediamo un po' cos'è che ci dice. Il suo DNA è quasi uguale a quello di Mew. Ciò nonostante, sono gli antipodi per dimensioni e carattere. Mew! Ed eccolo qui messo in squadra. Vediamo un po' le info. E vediamo anche la natura. Che è modesta. Perché ho modificato le nature direttamente da Zurropoli. Con quella medium molto particolare. Incassa bene i colpi. Mi sa che non è male, eh? È alto 2 metri e pesa 120 chili. Mi sa che si deve mettere a dieta, eh? Vabbè, però per 2 metri... 2 metri... Facciamolo uscire dalla Pokéball. Ed è gigante! Mamma mia che coda! Eh, guarda. Oh, addirittura un Nidoking. Oh, guarda come viene. C'è questo Nidoking che praticamente si sta seguendo te. Vabbè, amico! Si vuole prendere il posto di Mewtwo. Adesso è questo Nidoking il capo. Ma forse... Ma sta seguendo te, Francesco! Aiuto! È il nostro Nidoking! Perché io c'era... Non l'avevamo capito perché... Ragazzi, è la prima volta che giochiamo in due. Io pensavo che era sconato. Scusami, Dio! Perdonami! Posso farmi seguire da Pikachu? No, io devo farmi seguire. No, no, da Pikachu no. Ehi, Joseph! E guardate un po' c'è Mirko, il mio rivale a cui ho dato il nome ovviamente di Tuberanza. Non mi dire, hai già catturato quel Pokémon? Si chiama Mewtwo? Wow! Non c'era sta roba ovviamente nei primi giochi Pokémon. Sei stato più veloce di me e anche di quell'allenatrice. Niente, ho solo incontrato un'allenatrice dall'aria selvaggia che stava cercando un Pokémon potente. Chissà se intendeva Mewtwo. In ogni caso, tieni, te lo regalo, a me non servono più. Tre funi di fuga, mi sembra giusto. Ma per essere nemico non è così cattivo. Vabbè, è un rivale. Poco fa anche quella allenatrice è entrata nella grotta. Sono sicuro che sarà ancora cercando Mewtwo. Perché non vai a farglielo vedere? Potrebbe essere una bella idea. Magari, ragazzi, facciamo altri video con Francesca e andiamo a sfidare rosso, blu e verde. Perché se non sbaglio è proprio verde la ragazza lì all'interno. Oh, c'è Mewtwo. Questo lingering è arrivato correndo. Sì, non si sa da dove. Andiamo a sfidare proprio questo tipo e proviamo Mewtwo. Ovviamente, ragazzi, suppongo lo distruggeremo anche se lui ha 5 Pokémon perché abbiamo dei Pokémon di livello piuttosto alto. Allora, vediamo un attimino cos'è che accade qua. No, non ho messo Mewtwo come primo Pokémon, vabbè. Raidon, ti dico una cosa, faccio un surf così colpisce pure Pikachu, non importa. Vai tu. Non fare fulmine, fai breccia che è super efficace. Sì, perché è un attacco che colpisce diversi Pokémon, però forse lo butti giù e invece no. Quindi mi fai del male. E vabbè, non è che lo faccio con cattiverio, lo faccio apposta. Quindi andiamo a buttare giù questo Raidon. Ma come è la Pikachu? E vabbè, oh, gli abbiamo fatto un bel po' di danni a Pikachu, vabbè, fa nulla. No, vabbè, non è che ci resta male più di tanto, forza. Tra l'altro forse Blastoise sale a livello 70, è probabile. Arriva Nidoking, attenzione, ma non mi chiede di cambiare Pokémon. Poi ti chiede di cambiare in Pokémon. Però io lo vado a fare, eh lo so, però solitamente ti chiede se lo vuoi cambiare. Stavolta forse essendo in due non te lo fa fare. Sostituisco con lui, arriverà al prossimo turno. E tu attacca, vediamo un po'. Ti piace Piomba Flerk? Sì, perché vola. Vai, vai, ti piace ormai con l'attacco? Riprova. Arrivo io con Mewtwo che combatterà al prossimo turno, perché un turno si spreca quando cambi il Pokémon. Sì, sì, lo so, questo lo so. Beh, è una cosa ogni tanto. E va bene, guarda come attacca, guarda. Carino, dai, c'è da dire che è carino. Peccato che usa Terremoto. E a te è super efficace. Ah, è vero. Oh, guarda, povero Pikachu. Brutto colpo. Allora, adesso tocca a me. Vado con Psichico che dovrebbe addirittura essere super efficace. E ti consiglio di cambiare Pokémon, sì. Io voglio Charizard. Vorrei, mai voglio. Vorrei Charizard. Va bene così, vai, sostituisci. E quindi ora dovrei attaccare per primo io. Dove corre? Sì, è scappato via proprio. Ad eccolo qua, il carissimo Charizard. Dovrei buttarlo giù, ovviamente. Inutile dirlo. Va bene. Però, una cosa, ragazzi, che è un po' strana. Se noi usiamo due Pokémon, lui, avendo più di un Pokémon, potrebbe usarne due pure lui. E invece no. Rapidash. Oh. Che bello. Lui è davvero figo come Pokémon. Vado ancora con Psichico. Tu potresti andarci ancora con Eterelamo o Dragopulsar, a tuo piacimento. Io, Dragopulsar. Vediamo che succede. Lo butto già subito giù con Psichico. Probabile. Ragazzi, è fortissimo. Non mi fai fare niente. Mewtwo è fortissimo. Oh, ma se è forte Mewtwo, che ci posso fare? Oh, ed ora Dugong. Anche questo come mi piace. Ti piacciono tutti. Allora, ragazzi, c'è da dire. I Pokémon della prima generazione mi piacciono quasi tutti. Sono davvero bellissimi. Tranne i vari Rattata. Vabbè, quelli li odiamo un po' tutti. Acquaggetto, colpisce te, mi sa. Aia. Vabbè, non tantissimo. Vabbè, perché diventi livelli in meno un altro po', 15 livelli in meno. Oh, ho riuscito a resistere. Vabbè, Dragopulsar non resisterà più. Quindi, ragazzi, abbiamo anche sconfitto il coach ed è stata, come dire, una scusa, un'occasione per andare a provare anche questo Mewtwo. Però sai una cosa? Cosa? Mi è venuta in mente una cosa molto particolare. Ho sentito di una leggenda, ho sentito di una casa segreta all'interno del gioco. In realtà la conosco da anni perché c'era anche nei primi giochi Pokémon. Però adesso ti faccio capire un po' il tutto, eh. Vediamo. Siamo all'isola Cannella e la casa di cui parlavo è questa qui. Francesca magari non ne sa nulla, però forse hai visto i primi film di Pokémon. Questa è la villa Pokémon nella quale sono stati fatti esperimenti su Mew. Uh, sì, allora sì. Ed è qua che hanno creato Mewtwo. O almeno l'hanno tenuto per un po' di tempo. Adesso ti faccio vedere che succede. Ci siamo fatti un po' tutta la casa. Qua ci sono allenatori che, come vedete, ci vogliono sfidare con Pokémon molto potenti. E vi faccio notare anche lui. È qualcuno che ci vuole sfidare con Mew. È un esperto di Mew e si trova proprio qua, eh. In ogni caso, un giorno lo andremo a sfidare. Ma guardate che succede. Oh, si è avvicinato a questa zona. Mewtwo ha lo sguardo fisso sul grande macchinario. E sapete perché, ragazzi? Perché Mewtwo era rinchiuso proprio lì dentro. L'interno del vetro è ricoperto di segni, come se fosse stato colpito più e più volte. Ed è stato proprio Mewtwo ad uscire da qua dentro. Quindi, ragazzi, abbiamo scoperto anche un piccolo segreto. Ne avevo sentito parlare, però sono sincero, non ero sicuro al massimo. Ma ad ora l'abbiamo visto con i nostri occhi. Fateci sapere se volete altri video su Pokémon Insieme. Iscrivetevi al mio canale, iscrivetevi al canale di Francesca e guardate altri video presenti qua sul mio di canale. Quindi alla prossima, ciao!